Allora, com'è andato il primo giorno di scuola? Tutto bene, credo. Non lo so. Vi capita mai di guardare qualcuno e chiedervi che cosa gli passa per la testa? Lo avete notato anche voi? Sì, altro che. Qualcosa non va. Dobbiamo scoprire cosa è successo, ma ci servirà un aiuto. Invia segnalo al marito. Fino in fondo! Fino in fondo! Ci sta guardando. Che cosa ha detto? Com'è? Oh, spiacente, signore. Non stavamo ascoltando. La spazzatura! La tavoletta del vaterlazzata! Cosa? Che vuoi, donna? Cosa? Invia un altro segnale. Allora, Riley, com'è andata a scuola? Vogliamo scherzare! È per lui che abbiamo rinunciato a quel pilota brasiliano. È andata benissimo. Contenti? Che hai fatto? Credevo dovessimo fare finta di niente. Riley, va tutto bene? Signore, ha appena alzato gli occhi al cielo. D'accordo, fare la voce grossa. Non voglio usare la mano pesante. No, la mano pesante no. Riley, non mi piace questo tuo atteggiamento. Oh, te lo do io l'atteggiamento, vecchio! No, 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 respira! Che problema hai? Lasciami in pace e basta! Rileviamo un alto tasso di insolenza. Portare l'allarme a Defcon 2! Defcon 2! Non so da dove viene questo tuo atteggiamento irriguardoso. Vuoi un assaggio, babarino? Ah, sì! Beh, beh... Preparare mano pesante! Chiave in posizione di sicurezza! Pronti a lanciare la sua ordine, signore! Falla finita! Fuoco! Basta! Vai in camera tua! Mano pesante lanciata! Mano pesante lanciata! Sì! Ottimo lavoro, signori. Poteva essere un disastro. È stato un bel disastro. Andiamo! Vola con me, gaccigna! Vola con me, gaccigna! Vola con me, gaccigna! Vola con me, gaccigna!